A voi tutti ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di Nuova Televisione. Nuovo sbarco di migranti in Sardegna, circa 80 saranno destinati alla provincia di Oristano. La prefettura sta lavorando proprio in queste ore con le strutture convenzionate. Sentiamo. In base ai numeri che sono stati forniti dalla prefettura di Cagliari, che ovviamente le ha avuti come dati dal Ministero dell'Interno, alla prefettura di Oristano compete la sistemazione di circa 79 migranti che ancora non sono sbarcati a Cagliari, ma la previsione è che sul totale di circa 800, di oltre 800, veramente 79 spettino la nostra provincia. Qual è il profilo dei migranti che stanno sbarcando? Dai dati in possesso fino a questo momento, forniti appunto dalla prefettura di Cagliari, dovrebbero essere per la maggior parte di sesso maschile, di oltre 800, appunto solo 130 dovrebbero essere donne e 100 minori. Però devo precisare al riguardo che il numero dei minori è estremamente variabile perché al lato dello sbarco vengono eseguiti i necessari primi accertamenti, quindi un numero che potrebbe anche salire. Sapete già dove destinarli? In quali strutture? Ma siamo ancora al momento al lavoro su questo aspetto, abbiamo già un primo quadro di riferimento e il criterio seguito è quello di assegnarli a strutture che ancora hanno una capienza disponibile di posti e al momento su 14 strutture presenti in provincia, grosso modo verranno interessate 10 dall'ospitalità cercando appunto di seguire sia il criterio che ho detto, sia quello di una ripartizione equilibrata anche nel territorio e così pure rispetto al numero dei minori che vi dovessero essere, delle donne o dei nuclei familiari. Con questo arrivo sui 517 migranti presenti ad oggi nelle nostre strutture arriveremo a poco meno di 600. I beni del Sinis guadagnano il primo posto tra le mete culturali della Sardegna. Presente da record nel fine settimana pasquale per il Museo Civico, l'area archeologica di Tarros e la Torre di San Giovanni. Tra il sabato e il lunedì di Pasquetta sono stati ben 5.020 i visitatori dei beni culturali del Sinis oltre mille in più rispetto allo scorso anno. Numeri che indicano un grande interesse per i beni culturali del Sinis ed in particolar modo per il museo dichiarano il sindaco Cristiano Carrus e l'assessore Fenisia Erdas che rivolgono un plauso a tutti gli operatori che lavorano per l'accoglienza e la fruizione del territorio. Ed ora la politica. Domani click day per il Movimento 5 Stelle di Oristano che sceglierà attraverso le comunarie il candidato sindaco. L'ok è arrivato, adesso c'è anche l'ufficialità. Il Movimento 5 Stelle ad Oristano affida la scelta della sua candidata alle comunarie. E' arrivata finalmente la mail dove apriranno il portale a Rousseau quindi siamo molto felici di questo, di questa opportunità. L'ennesima prova che nel Movimento 5 Stelle c'è la democrazia interna quindi noi avremo una giornata per le votazioni. Tutti gli attivisti, i sostenitori del Movimento 5 Stelle, residenti a Oristano potranno quindi, se sono abilitati a votare nella piattaforma Rousseau potranno scegliere la loro lista votando per la candidata sindaca. La nostra candidata sindaca, espressa dal mità Polis da Progetto 5 Stelle Oristano e dal giudicato d'Albrea è Patrizia Cadau. A contendere il ruolo a Patrizia Cadau l'altra anima pentastellata quella espressa dal mità Polistano in Movimento, Lucia Tomasi. Sciolto il nodo del simbolo, i grillini si affacciano per la prima volta sullo scenario comunale oristanese dopo l'exploat alle politiche. Abbiamo raggiunto il 30% delle preferenze. Per la prima volta a Oristano perché c'è una storia, nel senso che noi Polis l'abbiamo fondato proprio all'indomani delle elezioni dove ha vinto Guido Tendas. Quindi non eravamo pronti per fare una lista. Erano le prime mosse degli attivisti qui a Oristano e quindi crediamo fortemente in questa possibilità che ci viene offerta oggi. Domani, click day. Il portale sarà arrivato domani, mercoledì, dalle 10 alle 19. Una notizia che riguarda il Comune di Oristano. Nei giorni scorsi è arrivata la sentenza del Tribunale sull'ingiunzione presentata dall'attuale dirigente al personale Daniela Sistigo. Il Tribunale ha dato ragioni al Comune sulla causa da 330 mila euro presentata dall'Assistigo. L'avvertenza nasce in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione che nel 2014 aveva disposto il reintegro dell'Assistigo nell'organico del Comune. Il Comune aveva adempiuto ma la dirigente è andata avanti anche con la richiesta di risarcimento danni. Il contratto dell'Assistigo scade a febbraio 2018. E' nuova svolta sugli usi civici che rischiano di paralizzare i pieni di zona di Torre Grande e di Sirì. Il Comune di Oristano lavorerà a braccetto con i funzionari di Ergea che saranno in città lunedì prossimo 24 aprile. Loro stessi hanno ritenuto opportuno affrontare la questione di Oristano che è una questione davvero annosa. Ho rappresentato agli uffici il grosso problema che soprattutto i privati cittadini stanno patendo ma anche la città. Ricordo che Torre Grande è quasi interamente gravata da uso civico. Questi riguardano quindi le abitazioni privati ma anche i piani di zona. Complessivamente i piani di zona sono 31. Gli ettari, come dicevo, sono almeno 5. E' l'altro grosso problema riguardarsi lì perché ben 57 nostri concittadini che abitano nelle aree ricadenti e nei piani di zona oggi non possono né esercitare la possibilità di trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà né vendere le proprie abitazioni. Quindi questo merita un'attenzione particolare. Questa nostra richiesta è stata accolta dall'Argea. Dal 24 addirittura si inizierà la verifica. Verrà il responsabile dell'ufficio legale dell'Argea con una squadra di tecnici. Noi mettiamo a disposizione gli uffici con tutti gli elementi, i dati che abbiamo raccolto nel corso di questi anni e con l'auspicio che a breve si riuscirà a trovare la soluzione, almeno per queste due aree più importanti. Viaggiava a 160 km orari in curante del limite di 80. L'infrazione più grave registrata nel weekend pasquale dei carabinieri della Compagnia di Ghilarza anche grazie all'ausilio dell'autovelox che ha effettuato oltre 60 scatti. Diverse le patuglie in servizio sulla statale 131 e sulla 131 di ramazione centrale nell'ambito di servizi preventivi di controllo del territorio. Nell'occasione sono stati distribuiti gli automobilisti oltre 400 etilometri monouso al fine di verificare il proprio livello di tasso alcolico e di conseguenza la propria idoneità alla guida dopo i pranzi e le cene delle festività. Sono stati anche distribuiti altrettanti depliani informativi riguardanti il trasporto dei bambini in autovettura. Il materiale è stato realizzato dall'ANIA, Fondazione per la Sicurezza Stradale. Si intitola Risveglio e racconta in maniera autobiografica la rinascita dopo la sofferenza dovuta alla malattia. L'autrice è Caterina Angozzi. Tornare alla luce dopo essere piombati nel buio più profondo. Un'esperienza, quella del cancro, che ti mette di fronte a un bivio, lasciarti annientare oppure reagire. Caterina Angozzi ha scelto la seconda, ha guardato la malattia dritto negli occhi e ha combattuto fino al risveglio. È proprio il senso del libro. Nel senso che c'è bisogno di dire quanto ammalarsi di cancro sia penoso, insomma, quanto faccia soffrire. Non è questo di cui voglio parlare. È che alla fine di un percorso, pur sempre doloroso, in cui ho avuto l'occasione di riflettere, di stare sola con me stessa e quindi di sopravvivere a me stessa, ho avuto modo di apprezzare la vita da un altro punto di vista. Quindi il risveglio proprio. Sì, io mi sento proprio una privilegiata, una risvegliata. Dal primo terribile referto all'intervento, passando per la chemioterapia, il turbante diventato tratto distintivo di quel periodo e le domande inopportune di chi ti circonda. Nelle pagine del suo libro, Caterina Angozzi mette tutto assieme ad un messaggio di speranza. Ci sono stati proprio momenti in cui mi sono disperata, volevo lasciare tutto, volevo abbandonare proprio le cure. Poi terminata la terapia e quindi quando mi sono rimpossessata delle mie forze fisiche, anche quelle mentali, sono tornate in equilibrio e appunto dopo aver percorso un tragitto abbastanza doloroso vedendo le cose schiacciate in faccia, ho imparato a vivere con leggerezza. È quello che auguro a tutti. Adesso Caterina sta già lavorando a qualche nuovo progetto? Sì, però per il momento non lo voglio dire. E all'interno della rassegna leggendo ancora insieme, domani, mercoledì 19 aprile, sarà presentato il libro di Cesare Corda Benvenuto, Mr. Parkinson. Un reportage di quattro anni di battaglie dal fronte della malattia, lo definisce lo stesso autore. Al dibattito, coordinato dal giornalista Sandro Angioni, interverrà il dottor Egidio Salaris, responsabile di diagnostica neurologica dell'ospedale San Martino di Oristano. Appuntamento alle 17.30 nella sala conferenze dell'ospitali San Chiantoni. Con questo è tutto, vi ringrazio per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie a tutti.